Mediamente ci sono dei titoli che non rispettano neanche il contenuto. No, ma lo dico per dirlo a lui. Ci sono dei titoli che non rispettano neanche il contenuto dell'articolo. No, 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 non mi sembra corretta. Ma sì, sono sorriso. No, 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 questo è molto scorretto. È giusto, basta. Ma così lo dico alla mia amica cameraman, ma come avevo detto a lei, ma secondo te incalzarmi cambia qualcosa nella risposta? Incalzarmi, noi facciamo il nostro lavoro, facciamo le domande, mi dispiace ma funziona bene. Però era dieci minuti fa, vi ho detto, gentilmente, visto che l'altra volta non avete rispettato quello che era la mia libertà, insistendo, visto che avevo già risposto e tutto il resto. Guardi, mi dispiace. Non li so, ciao a casa. Però era, io vi avevo detto, guardate, io vi do la mia disponibilità, che è sempre quella del mio tempo, delle mie risposte, ma se voi non rispettate me, io la prossima volta non vi concentro la mia fiducia. Ma non abbiamo risposto, non abbiamo mancato il rispetto a lei. Lei sta mancato il rispetto a lei. Ma sono d'accordo. No, 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 perché è scorretto quello che state facendo nei nostri confronti e verso il nostro lavoro. Sembra che veniamo con delle bombe a tirare, facciamo delle domande. No, no, però era veramente imbarazzante per noi. Allora, in otto mesi ho incontrato tantissimi giornalisti e con tutti ho detto la stessa domanda. Ci deve essere un aspetto di fiducia in quello che si dice e in quello che viene trasmesso. Se quello che viene trasmesso non è coerente con quello che si è detto, in modo voluto o non voluto... Guardi che i lettori sono molto più intelligenti di quello che lei crede. Sarà a loro giudicare. Ma sono d'accordo. Quindi se lei lascia la sua intervista, il lettore si giudica che è fazioso e cambierà sito, ok? Cambierà articolo. Noi facciamo il nostro lavoro, lei faccia il suo e risponde alle domande dei giornalisti. No, ma il mio lavoro non è rispondere alle domande dei giornalisti. E sì, perché noi scriviamo e facciamo sì che tutti possano leggerlo. E anche quello, mi dispiace, ma è anche quello. No, il mio lavoro non è rispondere alle domande dei giornalisti, è fare sì. Quindi, se foste un cittadino di Parma, io risponderò. No, invece noi lavoriamo per il fatto quotidiano delle miglia romagna. Quindi ci tenevamo a raccontare alle miglia romagna perché per il sindaco di Parma essere qui è importante oggi. È importante perché noi l'abbiamo seguita dall'inizio questa vicenda e quindi questo penso che sia il momento più importante del nostro percorso.